buongiorno e bentrovati a tutti oggi vediamo come riparare un generatore di alta tensione per recinto elettrico per animali questo dispositivo genera una scarica di migliaia di volte che serve per tenere lontani gli animali all'esterno e all'interno dal recinto ovviamente prima di tutto vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video il funzionamento di questo dispositivo è molto semplice si collegano i due uscite ad alta tensione una ad un filo elettrico scoperto che corre lungo tutta l'aria da proteggere e l'altro alla terra ogni qual volta l'animale farà cortocircuitare il circuito toccando il filo elettrico prenderà la scossa ma vediamo che cosa c'è all'interno beh mi sembra abbastanza evidente il motivo per cui questo circuito non funzioni perché ovviamente è penetrata dell'acqua e questo ha rovinato tutto il circuito apparentemente da buttare ma niente è impossibile per altri del 73 allora mettiamoci al lavoro diamo innanzitutto una bella asciugata e vediamo come riparare anche questo circuito che sembra un'impresa impossibile come vedete l'acqua che ha penetrata ha creato della ruggine per questo che il circuito non funziona ne andiamo innanzitutto a smontare la basetta dalla sua postazione e andiamo a rimuovere questa ruggine io utilizzerò del vd 40 che in questo caso fa miracoli spruzziamone un po sulla nostra basetta nei punti dove vediamo più ruggine e poi passiamo con un vecchio spazzolino a pulire tutte le piste tutte le tracce non vi preoccupate se verrà rimossa anche la resina di protezione vedete qui già la ruggine espresso che sparita andiamo a smontare l'altra separare la plastica dalla basetta e anche di qua una bella spruzzata di vd 40 sempre con un vecchio spazzolino andiamo a pulire perfettamente i componenti smt transistor e quant'altro a un certo punto per togliere rimuovere completamente il vd 40 in eccesso utilizziamo dell'area compressa e andiamo a spruzzare con una pistola tutto il circuito fino a renderlo perfettamente limpido e così facendo potremo vedere tutte le componenti principali che costituiscono questo generatore di alta tensione ad impulsi l'ingresso della batteria 12 volt il microchip che controlla la generazione del segnale a impulsi per la generazione dell'alto voltaggio il transistor di potenza che pilota un trasformatore un primo trasformatore elevatore e poi abbiamo un secondo trasformatore elevatore questo modulato dal triac che genera l'altissima attenzione che dà proprio la scossa in qualche punto di questo circuito ovviamente è avvenuto il danno andiamo a scoprire però nel dettaglio come funzionano questi circuiti di generazione dell'alta tensione in pratica il funzionamento di questi circuiti è un po il contrario di un normale trasformatore 220 volte dove si inserisce una tensione alternata di 12 volte sul primario di un trasformatore elevatore a 220 volt o centinaia di volte sull'uscita che vengono raddrizzati da un diodo e trasferiti ad un condensatore che poi è collegato ad un altro trasformatore moltiplicatore di tensione e che è modulato da un scr con una frequenza di un hertz e che leverà ulteriormente la tensione riuscita a migliaia di volte necessari per dare la classica scarica elettrica tralasciando per semplicità i componenti di contorno quando un circuito del genere non funziona la colpa può essere o del generatore di frequenza cioè del microchip che genera tutti gli impulsi necessari all'oscillazione o dal primo oscillatore elevatore di tensione che trasforma i 12 volte alternati in centinaia di volte oppure dal secondo trasformatore elevatore di tensione pertanto partiamo proprio dal primo oscillatore verifichiamo che il trasformatore che era quello dove era presente più ruggine si era correttamente collegato infatti come potete vedere non è collegato il primario è aperto evidentemente questo trasformatore è da riparare andiamo a dissaldarlo e poi con un po di pazienza e con un piccolo cutter andiamo a ripulire i due connettori del del primario che sono evidentemente arrugginiti in modo tale da rimuovere il sottile strato di smalto che li circonda ed effettuare così poi un nuovo collegamento vediamo a saldare due nuovi conduttori di rame sul circuito del primario che in questo caso è completamente corroso in modo da poi collegarli ai due spezzoni di fili del che abbiamo di cui abbiamo rimosso lo smalto del trasformatore del primario del trasformatore una volta effettuate queste saldature sul circuito stampato delle connessioni del primario andiamo ad inserire il nostro trasformatore così ripulito e andiamo ad effettuare le saldature sui due conduttori scoperti del primario di questo trasformatore che ovviamente non era collegato fatta questa riparazione prova ad effettuare un test collegando da vicino i due puntati senza farli il cortocircuitare vedere se scocca la scintilla ma non c'è niente da fare tuttavia il led inizia a lampeggiare questo vuol dire che il microchippage che genera il segnale di timing funziona evidentemente a questo punto il principale responsabile potrebbe essere proprio il primo oscillatore elevatore di tensione che fa capo a questo transistor di potenza e per curiosità vado a misurare se è presente il segnale di frequenza che serve per generare l'oscillazione sul circuito 12 volte con un piccolo oscilloscopio vado a misurare la presenza del segnale di oscillazione sulla base di questo transistor che evidentemente potrebbe essere difettoso che dovrebbe essere un segnale di qualche decina di kHz e trovo infatti un segnale da 10 kHz che pilota transistor di potenza necessario a generare la tensione a partire dall'oscillazione 12 volte avete intuito chi è il colpevole beh nel frattempo mettete like e iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei gialli probabilmente questo transistor è difettoso andiamo a misurare le giunzioni base emettitore e base collettore trovo il valore della funzione base emettitore corretto di 516 mentre il valore della base collettore è in chiara o cortocircuito inverto i puntali e trovo di nuovo il cortocircuito quindi questo transistor è parzialmente in cortocircuito è un transistor 2sd 313 npn che ha questa piadinatura e pertanto lo vado immediatamente a dissaldare dalla sua posizione per effettuare anche una prova fuori dal circuito stampato questo è il circo il transistor difettoso questo è il nuovo transistor identico che lo sostituirà per scrupolo vado a effettuare appunto la misurazione fuori dal circuito e trovo ovviamente la giunzione tra base e collettore in cortocircuito a conferma di ciò prendo anche il nuovo transistor e vado a misurare le giunzioni di quest'ultimo tra appunto base e collettore e tra base ed emettitore e risultano appunto perfette a questo punto non mi resta che reinserire il nuovo transistor sul circuito stampato ed effettuare delle ottime saldature su questi terminali che sono molto ossidati e prima di provare vado anche ad effettuare dei test su altri transistor smt presenti in altre parti del circuito invertendo i puntali e verificando le giunzioni di ciascuno che risultano apparentemente perfette a questo punto diamo fuoco alle polveri accendiamo con 12 volte il nostro circuito e a un certo punto come per magia vedete che scoccherà la scintilla il led si accende chiaramente e scoccherà la scintilla tra i due puntali del trasformatore elevatore di tensione a segnalare che il circuito funziona perfettamente bene amici a questo punto chiaramente io vi invito a mettere un se vi è piaciuto questo video a me non rimane che rimontare il tutto per scrupolo vado soltanto a verificare il corretto funzionamento anche del led che segnala la batteria bassa che risultava abbastanza ossidato a cui ho dato qualche rinfresco di saldatura abbassando la tensione a 10 volte vedete che il led di segnalazione inizia a lampeggiare di rosso a segnalare appunto che la batteria si sta scaricando perché ovviamente non genera più la scarica bene amici anche per oggi è tutto a me non resta che rimontare il tutto nella sua scatola non perdete negli altri miei tantissimi video sulle riparazioni come se avete delle domande potete mettere tranquillamente nei commenti qui sotto e vi do appuntamento alla prossima volta